Ciao ragazzi, oggi nel boschi della Val di Sole vi voglio mostrare un fungo molto particolare che molti di voi sicuramente conosceranno bene. Ho detto di andare in un ristorante cinese a mangiare, a fare una cena, avete ordinato magari, che ne so io, funghi e bambù, qualcosa con funghi e bambù, i funghi sono esattamente questi, questi qua. Si chiama auricola judae, vedete che qua ce ne sono altri tipi, oggi ne ho trovati una marea ma non li raccolgo perché oggettivamente non ne vado pazzo, come vedete crescono sul legno e sono proprio quei funghi lì che i cinesi, la cucina orientale insomma usa per varie cose tipo pollo a funghi bambù o gamberetti funghi bambù, insomma. Quando vedete i funghi nel ristorante cinese spesso sono questi qua e non sono male da mangiare ma stanno veramente di poco e io onestamente li lascio giù perché non sono dei funghi che gradisco particolarmente. Ecco qui è uno splendido esemplare di porcino però peccato che non sia un porcino buono e infatti è un satanas e lo capite non solo dal gambo che è molto rosso e verde ma basta spaccare un po' e vedete che la carne non è bianca, è virante al blu ma è gialla, è giallina, vedete? Questo vuol dire che il fungo non è assolutamente commestibile o perlomeno è commestibile ma avrete dei seri problemi gastrointestinali, secondo me non vale assolutamente la pena.